Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 26 marzo. Ariete, un problema in casa può richiedere più tempo del previsto per essere risolto. Cercate di non farvi prendere dal nervosismo e agite con calma. Toro, i rapporti con le persone che amate saranno molto appaganti, permettendovi di trascorrere una serata davvero molto bella ed emozionante. Gemelli, in amore dovete frenare un po' il vostro desiderio di essere sempre al centro dell'attenzione. Non rimproverate il partner se ogni tanto pensa alle proprie esigenze. Cancro, i nuovi progetti a cui state lavorando hanno bisogno di uno studio approfondito prima di essere varati. In amore avete bisogno di rassicurazioni. Leone, questa luna può mettere in dubbio la validità di una vostra scelta. Possono arrivare dei problemi inaspettati che vi faranno perdere tempo prezioso. Vergine, la luna in serata può rivelarsi molto utile per l'amore. Se ne avete la possibilità, cercate di darvi da fare in questa giornata fortunata. Bilancia, in amore siete parecchio sotto pressione. Avete bisogno di tranquillità, invece il partner vi assilla con delle richieste che richiedono grande impegno. Scorpione, la luna in opposizione in serata crea un po' di scompiglio nei piani che avevate preparato. Forse vi capiterà di dover buttare tutto all'aria. Sagittario, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte. E le soluzioni ai problemi che vi assillano possono arrivare grazie all'intervento di persone inaspettate. Capricorno, una luna fantastica in serata crea le premesse giuste per un incontro sentimentale. Potete organizzare qualcosa di speciale, magari una cena romantica. Acquario, attenti a non stressarvi troppo. Ogni tanto potete anche permettervi di tirare un po' il fiato, invece di inseguire continuamente un successo. Pesci, le amicizie riservano delle belle sorprese. Anche le nuove conoscenze possono rivelarsi positive. In amore sarà il caso di riprendere un discorso. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.